Mitigazione e bonifica dei canali secondari dei corsi d'acqua confluenti nell'alvio comune nocerino. Il consorzio di bonifica comprensorio sarno già da alcuni mesi proprio per prevenire ulteriori inondazioni nelle zone a forte rischio idrogeologico, soprattutto quelle che interessano l'agro nocerino sarnese, tra scafati e nocera inferiore ha programmato una capillare e costante manutenzione degli alvei dei canali. Un'azione programmata che tende a mitigare le zone altamente compromesse dalle inondazioni, conseguenza delle copiose piogge che hanno caratterizzato negativamente la regione negli ultimi anni. Il problema di queste piogge che abbiamo avuto nei mesi di maggio hanno comportato un aumento enorme di vegetazione, quindi stiamo un po' ricorrendo rispetto agli altri anni il taglio, stiamo intervenendo sulla città di scafati, su bottaro, per citare alcuni interventi, su fosso bagni, per quanto riguarda altri interventi, proprio del taglio di vegetazione e rimozione di alcuni ostacoli, alla luce anche di questi eventi che potrebbero anche verificarsi meteoricamente. Oramai l'ambiente sta cambiando, vediamo che il nord Italia è stato devastato in questi ultimi mesi proprio da grandi, tempeste che inadvertitamente colpiscono anche per mezz'ora e poi creano problemi enormi. In particolare la manutenzione interessa soprattutto la pulizia di canali secondari di confluenza, canali rigui in disuso ma fondamentale nell'ecosistema complessivo. D'Angelo mette in evidenza la difficoltà di interlocuzione con i proprietari dei fondi attraversati dai canali, ma anche la necessità di rafforzare il dialogo istituzionale con i comuni e gli altri enti che hanno competenza sul territorio. I canali secondari soprattutto sono canali rigui in disuso che molto spesso sono stati chiusi, occlusi o che ci sversano illecitamente. Anche qui è anche complicato svolgere un'azione di manutenzione, molti ce li chiedono, alcuni fondisti non fanno nemmeno entrare per poterli ispezionare, quindi c'è anche questa cattiva coscienza civica di alcuni, non tutti ovviamente. Detto questo noi abbiamo offerto la nostra collaborazione a tutti gli enti, siamo interfacciati 15-20 giorni fa in Regione Campania con i sindaci e con la Regione stessa per gli interventi da prontare. Abbiamo ribadito al Presidente alla Regione Campania proprio il fatto che noi siamo disponibilissimi a collaborare nelle disponibilità della Regione quando ci voglia e come ci possa coinvolgere, come ritiene più opportuno da questo punto di vista. Quindi diamo la nostra disponibilità ancora e verifichiamo le situazioni. Una polizia particolare che interessa anche l'impiego di un natante per intervenire all'interno dei canali ostruiti dalla vegetazione spontanea e da altri residui depositati sul fondo dei letti e dei corsi d'acqua. Con la collaborazione dell'associazione, dei cittadini che ci indicano quella zona stiamo intervenendo, abbiamo pure messo la barca a disposizione per il taglio anche all'interno ovviamente da questo punto di vista. Cerchiamo di portare a termine quello che è la nostra competenza sulla manutenzione ordinaria all'interno dei canali di bonifica. Noi cercheremo di fare la nostra parte anche con i fondi eventuali del PNNR, sia anche per l'irrigazione, di fornire acqua di qualità, che non dimentichiamoci che il Consorzio Bonifica fornisce acqua di qualità per l'agricoltura proprio in questo periodo che è fondamentale sia per la salute e per l'economia dei territori, imprese e agricoltori. Siamo disponibilissimi a qualsiasi tavolo, a conferenze di servizi con i sindaci e altri enti proprio a discutere e metterci insieme per trovare soluzioni di questi problemi.